Possiamo dirlo, siamo qui con il video sull'asso di picche perché È diventato il canone portatile più forte del gioco, ormai ci siamo Il nerf al 120, questa è una bestia ragazzi Questa è una vera vera bestia che finalmente Ci darà, guardate che soddisfazioni Quando si prende il perk che vi ricordo si chiama Memento Mori, vi pusciano i titani e vi uccidono Grande, grazie Tu sei che sei il migliore Si può vero, mi sembra con, mi ricordo Di base ci dovrebbe essere nel gioco, no? Oppure con i rinnegati, se non erro Questo? Madonna, quando entra in i tap proprio che esplode la gente in testa con l'ucciola Ok, vi ricordo che il perk si chiama Memento Mori ogni volta che fate una kill Caricando poi vi darà 6 colpi che faranno 90 al posto che il danno base che è 70 Come tutti 140 Wow L'asso di pick è l'arma più forte del gioco, non ci credo Non ci credo, invece ci devo non credere Finalmente L'arma di Kay, signori Sì che molti la stanno usando tra l'altro Io sono stato un pochino più preciso in realtà La bellezza è fare tanti HS Ma questo? Questo prende la rincorsa per prendere lo scudo e poi muore Va bene È una cosa, è una cosa È una cosa micidiale sto co Non ha veramente senso, signori Mamma mia Un bel like L'asso di pick è Ok Dopo 30 giorni è riuscito a uccidermi Rex Provando tra l'altro noi in quadratura Fatemi sapere se ve gusta, ve garba Al limite ricambiamo Ciao Olè Sono passato dietro Guarda che me la prendo nel culo sto fight Questo vuole challengearmi Questo non puoi challengearmi Non ha paura nessuno delle voca tempeste, regà È grave la situazione di questa super Ma tutti che cercano di uccidermi Con le altre super scappano Con questa cercano di uccidermi Assurdo Vabbè, comunque Dovrei avere die Eh, ok Scappare di qua Preso Preso 20 a 6 Rex Cosa mi combini? Li ho distrutti, annientati Che bello Lacrime amare abbiamo fatto anche Vuol dire che i miei avversari Sommate tutte le kill Non sono arrivati a 20 Mi sono stra divertito È bellissima Andiamo a farne un'altra di partita Ma che merda Ma questo è fermo Niente ferma Ti fa madonnare Perché Anche quelli col salva Ti fanno smadonnare Ma questo? Non ti prenderà il mio Ah, non c'è Non ho giocato per niente Raga, oggi È stato Sdraiato a vedere robe strane Cringe con gli altri No, io rimarrò sempre Un consolaro, ragazzi Nel cuore Tanto la play La prendo Cioè, non è che Però devo ammettere che Play 4 Era arrivato al capolino Ormai Proprio l'esperienza di gioco Non aveva più senso, ragazzi No, sicuro Non la prendo per Destiny Oh, mori Cato perché ha potenziale La console Anche perché non ci sono i cheater Per quello ha tanto potenziale Immagina Ma quanto è forte il mori, raga Ho vinto un fight contro una mitragliatrice È abbastante sto cosa Ciao Caduto giù Mica cosa del mori, ragazzi Che se switchi Hai finito Bravissimo Mi piace Tu sì che sei il migliore del game E c'è qua Ce l'ho dietro Beh Si sta sparando Parecchio Madonna Vi sto aprendo Dove siete? Voglio tutti Tutti Sopra Qualcosa vedete Che il pad, ragazzi Icaro non esiste Devi Devi Viaccia No Impazzisco Sunk No Era H.S Impazzisco Era H.S Non è entrato il colpo Pazzisco Ohi Riggioca Delafra Eh tu no invece Eh lacrime amare Poi state a casa Let's go Another game Per noi Ok Questo me lo sono trovato A un metro Praticamente Ma che Dove è sponato lui All'inizio In un buco di culo Di posto Muori 3 2 1 Challenge Ok Perfetto Smirato qualche colpo Ma l'abbiamo preso Ok Ma è comunque Una gittata Invidiabile adesso Adesso che i 120 Non se ne vedono più tanti Ha una gittata Super Ok Ho tradato Questo lagga un pochino Mi è morto dopo War QP Allora c'è uno dietro Ho preso uno qua Non sono proprio full vita Allora aspettiamo un attimo Andiamo adesso È una smoke Andiamo chi è più forte Tra il veleno Ok vabbè Lui era one Non è questo il fight Per decretarlo Grazie Mappa brutta Perché non capita mai Valle infinita Io non la gioco mai Ragà Bu Chi è c'è Vabbè Abbiamo capito Allora Un attimo a beccare Giriamoci Perfetto Questo con levi Le prendo io levi Così non le usa nessuno Ve le buco quelle pesanti Perfetto Sono chiuso tra Tipo 12 persone A questo punto Si fa la super Si fa la super Si fa la super Per forza di cose Ne prendiamo un altro Che era tipo One shot Con calma Perfetto Memento mori Contro Memento mori No lui è one Non ha recupero Quel tizio Ci ho messo un'ora A arrivare Viace qua Viace qua Dove scappi Beh Ci ha provato Un buon momento Quello perché Mi countera sempre Qua con levi Muore Chef Aspect Muore Ah non esce Tu Tu sei cringe Let's go Let's go Let's go Anche questi dominati Mamma mia signori Ma che divertimento È veramente Veramente figo L'asso di pic Passiamo alle conclusioni Arma molto Molto forte Signori Che è Assolutamente meta È bellissima Ha tanti decori A me ne manca uno Mi sembra che è quello Del Del pollo Del colonnello Che spettacolo Vi sconsiglio questo decoro Perché gli sfasa il mirino Non si vede nulla È sicuramente il miglior 140 del gioco Ma adesso è il miglior canone portatile del gioco Assolutamente ragazzi Io spero Che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Del L'asso di pic E noi ci becchiamo in un prossimo video Arriviamo magari a 150 200 Per l'arma di Kade GG Dai ruai Bella raga